Ciao a tutti bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con la finalissima dell'open su Mario Power Tennis Attenzione abbiamo Leo in camera nostra che è appena stato sconfitto da noi ovviamente In una partita tremendamente difficile Rilassati e vieni anche tu Max Dove? In campo ti agiti troppo non credi? No Ah non te ne rendi conto? Ma stai zitto Vabbè dai Non esistono tennisti che non si agitano prima di una finale In questo caso poi sia tu che l'avversario siete nuovi giocatori Ah Non regalare alla grande elite il titolo di singolo che tanto desideravi Vinci per noi Io sto qui e aspetto i risultati della finale Ma vai a venire la partita? Che tanto vinco Vinco Quindi devi venire a vedere la partita Cabrones dai Ma hai contato il tabellone? È la finale c'è solo lui Che devo controllare Sì devo aver verificato quello che te cieca Ma dai su dai Guarda mi metto qui per farti dispetto Va bene? Non va bene? C'è nessuno qui che vuole parlare con me No andiamo Vuoi andare? Eh devo per forza Attenzione prego Abbiamo iniziato alla finale di singolo Ok Ciao ragazzi Vincerò anche per voi Ma soprattutto per me Vai 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 Moing Graccattapalle che sono pronti a ricevere le palle Ma stanno più in una posizione di bugger O stanno giocando a dodgeball loro Due giochi Incontro su cinque partite Oh mamma mia Oddio questo Questo fa le palle più curve di quell'altro Eeeh Dai vai Eeeh Cerchio santo Questo fa paura Oh io c'ho paura di questo Come lo battono questo? Sotto rete? No O forse Sì Grande Oh mio dio Questo nuovo lancio Cerchio incantatore Nooo Troppo Troppo Storta Non è curva Quella è proprio E vai Vabbè Sì Do va Vai Bene Ok Eeeh Che Insomma È troppo Non sono Non sono curve Queste sono letteralmente storte Letteralmente storte Non sono curve Non esiste che quelle si chiamano palle curve Maam Zuna Eccolo qui Dai dai Manda 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 Oh no No dai Ok Wow Dove vai? Nooo Grande Grande Wow Mi accarico No Manco per sbaglio Oh Cavoli Vabbè Non posso prenderle tutte Bene Molto bene Dai 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 Questa Prendiamo Ok Oh quanto storta Ha fatto due giri Ha fatto Mica uno Bene Molto bene Molto bene Ok Ok No 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 Ok 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 Ma qui già carico Un'altra volta Eh prendi un po' questa Mo Eh insomma Vorrei ben dire Ah dai No 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 Bene Molto bene Bene Molto bene No Non si riesco a fare un colpo speciale degno di quel nome però Grande Mitico Bellissimo Vai Ah mamma mia però questo come si carica veloce Oh let's go Ma ma ora gli vado sotto rete e gli vado Eh eh Amico mio Mi piace vincere facile a me Dai Eh eh Non te l'aspettavi eh Sì sì fai 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 Bene Bene Mi sta chiedendo di impegnarmi o mi impegno Eh vabbè Eh vabbè Sì Ci siamo capiti comunque Ah 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 Dai Buono Oh cavoli E mo sono sotto pressione però No E' carico anche il mio E' carico anche il mio No Non è però quello bello No 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 amico mio No amico mio Tu non hai capito niente Tu non puoi vincere Questa Questa Partita No La prende Wow Vai Beccati questo E vincere il torneo Vincere il torneo Finalmente Eccolo qui Grande Ole Oh oh E si sale di livello amici Si sale di livello Controllo Controllo e side spin Volè e top spin Ok Wow Nuovo giocatore acquisito Ora puoi scegliere Dario Non lo sceglierò mai Ah Che sfida amici miei Questo fa le palle più curve di tutti E grazie 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 a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non giocherai mai con me. Non faremo mai il doppio perché è impraticabile il doppio. Sì, mi sembra di aver già vissuto questo momento. Già. Cosa hai intenzione di fare ora che sei il campione? Sono il più forte? Niente, mi rilasso. Aspetti qualcuno? Veramente no. Max, sei in casa? Ma è Alex, il migliore che ci sia. Posso entrare? Sì. Certo. Cosa c'è? Ma guarda, ci sei anche tu, Tina? Se dovete parlare di qualcosa di personale posso aspettare fuori. No, non c'è problema. Seguitemi. Ma, sì, va bene. Seguiamolo. Ma nel prossimo video, amici miei, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video in descrizione. Trovate tutti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye, bye.